Dopo il successo riscosso dall'iniziativa realizzata lo scorso anno nello spazio Viterbi della provincia di Bergamo, la mostra multimediale di antichi testi della commedia dell'arte, il bergamasco in commedia vita, passioni e amori, a Proda Spirano. Qual è il momento migliore se non il carnevale per ammirare l'esposizione, risultato di una ricerca documentale del professor Adriano Freri? È una mostra che dà una grande importanza alla storia della civiltà bergamasca. In maniera multimediale, quindi divertendo, intrattenendo e rendendo anche curiosi, si fa un escurso sull'epopea dei bergamaschi che hanno portato in tutta Europa, tra il 400, il 500 e il 600, la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro modo di essere. Attraverso spettacoli li facevano sia nelle corti, che nelle piazze, che nei teatri, cioè dei veri professionisti, anzi il teatro professionistico è proprio iniziato da loro, tanto è vero che pure Shakespeare si ispirò a queste loro rappresentazioni e vicende. L'iniziativa si propone la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale e l'approfondimento delle tematiche relative all'identità della comunità bergamasca. In particolare si intende recuperare l'attenzione della contemporaneità, l'antica espressione della commedia dell'arte e del caratteristico teatro di figura bergamasco. È un appuntamento sia divertente che in tono con il carnevale, sia soprattutto un interesse culturale veramente ampio che va da quello che può essere la letteratura alla storia e anche alla vita di queste persone, dei loro problemi, della guerra di allora, della fame, di come cavarsela. Tanti bergamaschi hanno creato il sistema postale, altri sono andati a gestire i porti di Venezia e di Genova e questi hanno portato il teatro europeo in tutta Europa e hanno reso famosa l'Italia per la commedia dell'arte e proprio tra i protagonisti in maggioranza erano questi bergamaschi.